Hai parlato che dovesse essere lui a puntare alla maglia rosa oppure perché Rogers ha avuto un problema? Ha avuto un accident in the end, non so se ha perduto il tempo, ma ha perduto le posizioni, e io ero ancora qui, quindi segui i ruoli, e io e me e i Rogers, quindi abbiamo il giro per il giro, quindi abbiamo il giro per il giro per il team.